Anche noi, Evergreen Oratorio Boa Marina, vogliamo lanciarvi il nostro messaggio. Siate registri della vostra partita. Io resto a casa. Noi ragazzi vediamo la squadra nazionale. Andrà tutto bene. Ragazzi andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andiamo a cantare, andrà tutto a cantare. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene, io resto a casa. Ciao a tutti ragazzi, restiamo a casa, andrà tutto bene. Ciao ragazzi, restiamo a casa, andrà tutto bene. Ti amo per te, mi allego. Ciao ragazzi, cosa stai facendo fare a noi? Ciao!